Quante volte ti sei domandato, parlando con gli amici dell'area cani o con la tua famiglia, se il tuo cane possa soffrire di ansia da separazione? Molte, moltissime. Ogni minimo segnale ti porta lì e non sai che fare. Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog, e oggi ti voglio dare gli strumenti per capire se veramente il tuo cane possa soffrire di ansia e quindi rivolgiti ad un professionista per farti aiutare. Come già avevo detto in un video precedente, l'ansia da separazione è una patologia del comportamento che invalida la quotidianità del cane e di tutta la famiglia. Prima di parlare di ansia da separazione è corretto introdurre la figura del veterinario comportamentalista, che è l'unico che può diagnosticare queste tipologie di problematiche comportamentali. Senza una diagnosi certa e chiara in tuo possesso, ogni tentativo risulterà vano. L'ansia da separazione è una patologia con segni chiari, ma non è da confondere con un normale stato di noia che i nostri cani possono provare rimanendo a casa da soli per molte ore. Infatti spesso si confondono per le distruzioni in casa che vengono mostrate in entrambi i casi. Il primo e più importante punto da valutare è il grado di relazione che hai con il tuo cane. La parola relazione introdotta in cinofilia qualche tempo fa per identificare il rapporto uomo-animale e nello specifico quello uomo-cane ha subito nel tempo una distorsione perché molti di noi pensano che si intenda una relazione di pendenza. Più il mio cane mi è attaccato e più mi vuole bene. Non è così purtroppo. Per relazione equilibrata si intende una relazione dove entrambi i soggetti hanno i ruoli chiari e dove c'è un'espressione individuale. Essere dipendenti da qualcuno vuol dire che un soggetto vive nell'ombra rispetto ad un altro. Una relazione morbosa o di troppa dipendenza crea infatti le condizioni per subire la mancanza di qualcuno e quindi la base della paura del distacco. Questo è il punto di inizio dell'ansia da separazione o del disagio da solitudine. Altresì un'altra componente importante nei casi di ansia da separazione è la componente genetica. Molte razze sono predisposte a soffrirne. Alcuni esempi sono Doberman, Cocker, Boxer e persino i Labrador. Insomma tutte le razze che hanno una spiccata motivazione collaborativa potrebbero soffrirne. Quando sei in casa cerca di verificare questi punti. Mettiti in un locale della casa con il cane e di sorpresa esci chiudendoti alle spalle la porta. Devi monitorare se in quei pochi secondi il tuo cane comincia ad abbaiare e a essere nervoso o a grattare la porta stessa. Comincia a girare per la casa e guarda se il tuo cane in maniera ossessiva ti segue per non perderti di vista. Guarda se il tuo cane ti controlla costantemente. Controlla le zampe del tuo cane, principalmente quelle anteriori. Se su di esse ci sono dei granulomi di leccamento vuol dire che in tua assenza sfoga la sua ansia su se stesso. Controlla se subisce la frustrazione di un gioco finito. Se continua a cercarti e non riesce a cambiare il suo schema mentale probabilmente subisce la mancanza di contatto. Prova a togliere il contatto per qualche minuto e controlla se lo richiede insistentemente. Tutti questi segnali, forse piccoli, sono degli strumenti per percepire se la relazione con il tuo cane non è equilibrata. Un modo per capire se il cane dipende totalmente da te e non sa gestire qualche momento di solitudine. Se dovessi accorgerti anche solo di uno di questi segnali non esitare a rivolgerti a un educatore cinofilo esperto in rieducazione comportamentale o a un veterinario comportamentalista per avere un parere. Spero che questo video ti possa essere stato utile e se ti è piaciuto lascia un like qui sotto. Continua a seguire i nostri video e grazie per essere stato con noi.